eccoci qua intervallo di osasuna real madrid sono solo 0 a 0 mentre qua sta per cominciare un interessantissimo tigre river plate in argentina però in questo video voglio parlare di una persona di un ottimo tecnico un ottimo allenatore che ci ha lasciato un allenatore che negli anni 70 sto parlando di lario castagnere naturalmente un allenatore che negli anni 70 e 80 ha fatto vedere belle cose un allenatore che a un suo modo è passato anche alla storia del nostro calcio di lui ovviamente la il maggior ricordo è il perugia dei miracoli il perugia degli anni 70 per chi ovviamente non ha la mia età oddio io mi sono documentato più che altro perché ero piccolissimo si può dire che mi sono documentato da dopo perché ero piccolissimo quando lui furoreggiava sulla panchina del perugia all'epoca giovane allenatore si può dire che era l'equivalente dai io lo devo sempre nominare del deserti di adesso diciamo 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 anche se con sfumature decisamente diverse per quelli più giovani sappiate che per chi ricorda il perugia come la squadra di gauci ecco mettetelo da parte il perugia di castagnere del presidente franco d'attoma era ben altra roba nel senso che il perugia era una tranquilla squadra squadretta dell'umbria all'inizio degli anni 70 dove tra l'altro oggi si è giocato perugia ternano il perugia ha vinto 3 a 0 guardate un po i corsi ricorsi storici guardate le coincidenze all'epoca nei primi anni 70 il calcio umbro era più che altro rappresentato dalla ternana che portava per la prima volta l'umbria in serie a perché l'umbria in serie a ce l'ha portata per la prima volta la ternana allenata da corrado viciani che pratica un gioco similolandese all'epoca furoneggiava l'ajax la grande olanda degli anni 70 insomma molte squadre prese lo spunto da quella da quel calcio la il torino di radice se pensiamo a un'altra squadra più grandi livelli torino scudettato di radice nel 76 anche lì fu un mezzo suicidio della juventus vabbè la ternana che va in serie a la prima volta nel 72 73 promossa nel 72 la prima volta inserire retrocede subito ritorna inserirà l'anno dopo e riretrocede subito cioè nel 1975 anno in cui sale in a un'altra umbra che è il perugia allenato da castanier il perugia esordisce in serie a nella stagione 75 76 e fa già molto meglio della ternana della ternana tanto è vero che tornando a quel torino la il colpo di grazia quella juventus la da proprio il perugia nell'ultima giornata di quel campionato lì perugia che arriverà settimo ottavo se non ricordo male già al primo anno di serie a farà settimo ottavo noi la juve col torino che la juve in testa quel campionato poi in cappa nel girone di ritorno in tre sconfitte di fila veniamo scavalcati dal torino non lo riprenderemo più arriviamo all'ultima giornata con un punto di distacco da loro e loro in casa con cesena che si qualificherà in coppa uefa quell'anno lì e noi a perugia l'ultima partita vedete nel destino e noi si perde un a zero con gol di renato curi con coltivato curi e mentre a torino festeggiano lo scudetto torino granata noi si cade nella depressione che da quel successo nascerà la rivoluzione dalla quale verrà fuori nascerà la grande juve di trapattoni da quel da quello smacco lì ma tornando al perugia aveva giocatori come curi novellino valter affreddo novellino che era un'ottima ala un ottimo esterno d'attacco noi non ricordiamo come allenatore valter affreddo novellino era un ottimo giocatore credetemi era un gran bel giocatore novellino poi nel 76 77 castanier farà un altro bel campionato e sfiorerà la qualificazione alla coppa uefa per tre anni di fila per tre anni di fila sfiorerà la qualificazione alla coppa uefa perché arriverà proprio sotto di un punto a pari punti però non ci va per differenza reti nel 77 fra un altro gran bel campionato fra l'altro gran bel campionato per dirvene per dirvi la dimensione quel perugia lì il perugia sarà allenato da castanieri dal 1900 in a dal 75 76 79 80 per dirla juve che era la squadra riferimento non riuscirà mai a vincere su quel campo lì addirittura anche nell'anno in cui perugia retrocederà in serie b però non c'era già più castanieri sulla paniera perugia allora farà un altro bel campionato nel 76 77 nel 77 78 la squadra sembra ben avviata addirittura la quinta giornata in testa alla classifica la sesta si gioca perugia juventus sotto un acquazzone guardate voi come ritornano le coincidenze ragazzi come ritornano dato fatemi abbassare un po la luce ok così stavo dicendo guardate come tornano le coincidenze però quell'anno quella partita lì sarà drammatica perché si verificherà la prima grande tragedia di un calciatore morto sul campo in italia renato curi renato curi proprio quel renato curi che ci aveva fatto gol nell'ultima di campionato del 76 veniva da un infortunio alla caviglia giocava infiltrato giocava infiltrato e lui stesso ammetteva di avere un cuore un po ballerino nel senso che aveva soffriva di una aritmia che andava a posto mentre lui faceva attività fisica fino a quel giorno la in cui a inizio ripresa sviene non si sveglierà mai più addirittura morirà nello stadio renato curi secondo molti morire lo stadio fu un dramma la squadra accuserà il colpo finirà il campionato sesta pari punti con napoli solo che andare in coppa uefa ci andrà il napoli per differenza gol ci andrà un perugia che subisce il colpo subisce il colpo perché quel perugia lì è una grande storia di provincia ma anche una storia di grandi drammi come vedrete fortunatamente non a quei livelli non sarà l'ultimo dramma del perugia del grande perugia di castanier perugia di castanier che in quell'anno lì fa esordire un altro giovane molto interessante che è salvatore bagni bagni c'è vannini che poi verrà allenare anche in puglia monopoli franco vannini un ottimo giocatore speggiorin che andrà a giocare anche a napoli insomma giocatori di un certo livello è l'anno al top di questo perugia il 78 79 dove parte subito bene battendo nelle prime giornate guardate nelle prime quattro giornate cosa combina il perugia di castanier alla prima batte il perugia di paolo rossi alla prima il vicenza di paolo rossi secondo in classifica il famoso real vicenza anche se rossi era infortunato per si era infortunato nella gara di della gara di coppa uefa e non giocava alla seconda pareggia a milano con l'inter anche se in extremis alla terza parte la fiorentina di antonioni e alla quarta viene a vincere in casa della juventus vince in casa della juventus quel perugia li ed è in testa la classifica però c'è un'altra squadra che ha cominciato bene che il milan di lidl come gioca quel perugia ecco quel perugia gioca in un modo molto simile che è molto simile al gioco che praticherà la spagna il quello del falso nueve senza attaccanti di ruolo praticamente ruolo con cui la spagna ci ci darà una batosta la finale dell'europeo ecco il perugia anticipa quel tipo di gioco di molti anni non è avere al suo gran possesso palla è una squadra che praticava una zona molto ordinata era una squadra anche molto fisica vannini era oltre 1 e 90 ed era e non era un attaccante ma faceva parecchi gol vannini speggiorino lo stesso bagni era alla destra perché bagni è uno dei giocatori più sottovalutati del calcio italiano bagni vannini speggiorin il capitano gigi frosio anche lui scomparso recentemente pierluigi frosio insomma quel perugia oltre a quel perugia parte bene il milan di lidl che finirà per vincere il campionato con le torinesi in crisi del post mondiale d'argentina l'inter non era ancora matura avrebbe vinto l'anno dopo l'inter e resta praticamente i sci al milan fino all'infortunio di vannini che si rompe una gamba proprio in perugia inter dopo aver pareggiato perché era sotto di due gol in quel perugia inter poi la pareggerà il perugia e si romperà la gamba vannini un infortunio che praticamente poi definì la sua carriera perché romperti la gamba negli anni 70 voleva dire smettere si impantanerà in una serie di pareggi e alla fine arriverà imbattuto prima squadra conclude imbattuto un campionato e non da vincente a quattro punti dal milan quel perugia farà epoca perugia a quel punto ed ecco ecco qui sovviene un discorso che faccio spesso io certi allenatori fanno benissimo in questa realtà quando si tratta è capitato che ne rioscava il parma e anche se quel parma ha vinto in europa anche quando si è trattato di fare lo step successivo ecco che iniziano i problemi come perugia vuol fare lo step successivo che step successivo dopo quel secondo posto vuol dire scudetto perché il perugia 79 80 punta decisamente allo scudetto acquista paolo rossi dal vicenza il campionato è discreto discreto non è il perugia dell'anno prima perché l'assenza di vannini a centrocampo si sente come rossi segna con una certa regolarità ma l'inter piglia subito il volo e ci puoi fare niente quell'inter vince strameritatamente quello scudetto la a marzo poi viene fuori la storia delle scommesse rossi della martira zecchini insomma il giocattolo di castagner si rompe in quella primavera dell'ottanta alla fine il perugia resterà in serie a ma verrà penalizzato per l'anno dopo castagner lascerà il perugia paolo rossi sarà squalificato per due anni della martira zecchini per cinque anni se non sbaglio castagner che si accaserà in una pagina che incredibilmente non trova una squadra disposta a fidare una pagina in a lui va in b nella lazio appena retrocessa per le scommesse e lì diciamo che ci sarà la più grossa delusione della sua carriera quella promozione in a che era sembrava proprio lì era quasi non si trattava di se ma di quando a braccetto col milan il ritorno in serie a e invece e invece una brutta dopo che la lazio perde in casa per 2 a 0 lo scontro diretto col milan cominceranno i problemi perché quella era una lazio che non aveva un centro avanti di ruolo aveva bigon che aveva fatto bene col milan che non era un attaccante aveva garla schelli che era anziano aveva insomma mancava di un goleador e questo negli anni 80 era un fattore esiziale tant'è vero che al perugia perché prende rossi perché nel campionato in cui arriva secondo gli manca il grande goleador che li avrebbe portato forse a giocarsi lo scudetto davvero col milan la lazio la lazio diciamo di castanier comincia a essere troppo altalenante per i risultati allora il milan oramai fa storia a sé fino alla lazio comincia a aver problemi fino a essere superata la cesena genoa e perderà clamorosamente gol del real madrid intanto o no fuori gioco fuori gioco perderà clamorosamente la promozione nell'ultima partita in casa con il lanerossi vicenza che sta lottando per la salvezza che retrocederà tra l'altro in serie c un pareggio 0 a 0 mi sa che la lazio fallirà anche un calcio di rigore e la lazio mancherà clamorosamente la promozione a in a che sembrava già praticamente già scritta l'anno dopo l'anno dopo direttore generale di quella lazio era moggi ma non lo era al tempo delle scommesse sarebbe arrivato dopo la retrocessione della lazio quindi la gazzetta fa un'azione criminale in quei dvd là castanier l'anno dopo viene confermato ma partirà malissimo partirà malissimo e finirà il campionato a metà classifica la parentesi laziale quella peggiore per castanier diciamo ma come dico spesso io come dice fabrizio di andre dall'età me nascono i fiori e qui che dal punto di vista dei risultati inizia la parte migliore forse della carriera di castanier anche se lui verrà sempre ricordato per quel perugia lì resta in serie b ma va sulla panchina del milan retrocesso sul campo quel milan ha è un milan giovane a differenza della retrocessione dell'ottanta dove riusciva praticamente la squadra dello scudetto della stella dopo la retrocessione dell'ottantadue sul campo il presidente farina cosa fa manda via mal di malvera de vecchi tutti i reduci di quello scudetto la e si affida ai giovani barisi c'è già evani i cardino l'argentino incocciati c'è giordan c'è aldo serena che prende in prestito dall'inter mentre collovati dal milan andrà all'inter serena giovane serena dall'inter andrà al milan serena e pasinato e pasinato andranno in prestito al al milan quel milan stravincerà quel campionato di serie b demolendo ogni record 77 gol fatti in 20 partite c'è una media assurda in 40 partite una media assurda quasi due gol a partita che per la serie b degli anni 80 ragazzi è roba allucinante torna in serie a in serie a dopo qualche incertezza iniziale per dirvi la prima d'avellino la perde 4 a 0 dopo qualche incertezza iniziale qualche sbandamento iniziale comunque farà un campionato dove arriverà ridosso della qualificazione in coppa uefa poi dopo litigherà col presidente farina e sarà esonerato sarà esonerato con tanto di proteste dei tifusi milanisti poi l'anno dopo che fa resta milano ma va sulla panchina dell'inter nell'inter è arrivato rumenig adesso noi però qua dobbiamo fare un discorso io dico sempre chi è abituato un allenatore che fa giocare benissimo le sue squadre ma squadre che non devono avere l'obiettivo della vittoria tranne quel milan in b quando poi deve vincere e lì nascono i problemi però il primo anno il primo anno di castaniera nell'inter un anno molto positivo arriva rumenig arriva rumenig quell'anno lì e rumenig il primo anno all'inter è devastante anche se lo scudetto lo vince il verona quell'inter resterà in lotta per lo scudetto fino a 5 6 giornate dalla fine dopo comincerà a essere altanelante il verona invece regolare arriverà lo scudetto quell'inter lì farà grande strada anche in coppa uefa farà anche strada in coppa uefa arriverà in semifinale di coppa italia la coppa uefa arriva in semifinale con real madrid vince 2 a 0 in casa ma potevano essere anche 4 i gol tranquillamente per dirveli l'inter di castaniera rumenig ne dà 4 la juventus ne dà 4 la juventus con due gol di rumenig ricordo benissimo quella partita dove fummo massacrati fummo massacrati dall'inter e poi al ritorno c'è il 3 a 0 del real madrid con lo scandaloso episodio della monetina in testa bergomi che non dove non viene decretata da lui fa la vittoria tavolino all'inter veramente una roba assurda e poi l'anno dopo dopo quella stagione comunque non l'inter non porta titoli a casa ma è una stagione comunque molto positiva è stata in lotta per lo scudetto fino a qualche giornata dalla fine arriva in semifinale di coppa uefa che perde sappiamo come in coppa italia arriva in semifinale eliminata dal milan l'inter è la grande favorita del campionato 85 86 anche perché sono arrivati fanna tardelli oltre a rumenig oltre ad avere già rumenig e compagnia l'inter è la stra favorita di quello scudetto la ed è qui che casca l'asino ed è qui che casca l'asino quando gli allenatori certi allenatori devono fare lo step e lì avviene il crollo l'inter comincia a perdere fuori casa sistematicamente fuori casa comincia a discontinua e naviga al quinto sesto posto fino a quando viene castagnere viene esonerato sostituito da corso di quello sarà un grande fallimento per castagnere quel secondo anno lì all'inter anche se le colpe non erano tutte sue perché li fanno praticamente una squadra di pensionati perché rumenig fa benissimo il primo anno già il secondo come fa molto meno la squadra la manda avanti altobelli ogni tanto il vecchio tardelli fanna delude marangon anche esso arrivato dal verona campione d'italia delude bredi il peggior bredi che sia sia mai visto in italia quindi andrà male castagnere poi allenerà l'ascoli salverà l'ascoli per due anni di fila poi al terzo anno parte malino litiga con rosi viene esonerato poi ritornerà a perugia tornerà a perugia due volte e che coincideranno con due promozioni anzi con tre promozioni la prima li viene revocata in c1 quella del famoso perugia c-reale la seconda praticamente in serie c l'anno dopo è praticamente ingiocabile quel perugia lì la terza volta viene chiamato nella stagione 97 98 a poche giornate dalla fine staccato dalla zona promozione di parecchio e invece riuscirà ad arrivare lo spareggio col torino che vincerà il famoso spareggio della frase di lentini la vincerà i rigori e porterà la squadra in serie a signori questo è ilario castagnere un signor allenatore un signor allenatore che forse forse è capitato in una squadra per vincere in un momento sbagliato perché vi assicuro che castagnere faceva giocare molto bene le sue squadre però c'è sempre c'è sempre questo però quando si è abituato a fare benissimo con squadre che non devono vincere quando poi devi fare lo step successivo purtroppo iniziano i problemi riposa in pace ilario castagnere si è stato un grande comunque